Io ho scelto Baby Meal Kiko De Longhi. Perché? Perché cucinare in modo sano e naturale per il mio bambino è importante. Baby Meal è il nuovo robot da cucina dalle mille possibilità. Omogenizza, taglia, cuoce tradizionalmente e al vapore, frulla, mescola e prepara ottimi budini. Con Baby Meal Kiko De Longhi, cucinare è un gioco da bambini. Nuovo Baby Meal Kiko De Longhi, pensato per i bambini, fatto per le mamme e per tutta la famiglia. Grazie a tutti.